Recupero della ventunesima giornata nel campionato Under 15 regionale, il città di Tavormina viaggia alla volta di Barcellona per affrontare l'Orsa Promo Sport allo Zigari. Padroni di casa che scendono in campo con Pino, Daniele Biondo, Maio, Antonino Biondo, La Rocca, Barresi, Scarpaci, Cirillo, Frisenda, Pantano e Corica. In panchina Caravello, Molino, Donato, De Gaetano, De Salvo, Baglione e La Spada. Mister Giorgiani invece schiera l'Under 15 del città di Tavormina con Cucinotta, Cuccespa, No, Mollura, Minissale, Trischitta, De Marco, Pipitone, Semutu, Centorrino e Resta Lunga. A disposizione Arena, Mandini, Maiolino, Pandolfino, Scrima, Mazzeo, Garufi e Pietro Paolo. Città di Tavormina che va a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto sabato per 3-1 in casa del Gesca. Centorrino ha un po' di campo davanti, grande galoppata di Centorrino che allarga a destra dove c'è De Marco. Punta l'uomo, De Marco lo salta, va alla conclusione, Pino gli sbarra la strada in uscita ed è calcio d'angolo. Subito una chance per il città di Tavormina. Resta Lunga adesso, guadagna palla, avrà l'interno dal limite, conclusione debole, parafacile stavolta Pino. Il piazzato di Mollura, la palla dentro che schizza ancora dalle parti di Pino. Blocca a terra il portiere di casa. Il giro palla un po' complesso, Minissale non ha un felice controllo, ora Frisenda il tocco verso Corica, il pallonetto traversa. Poi ancora Frisenda costretto a rinculare, lo ferma Cucè. Brivido per il città di Tavormina si ripartirà con un calcio di punizione. La Rocca con personalità poi ci prova dal limite, conclusione sballata d'esterno che si perde abbondantemente sul fondo. Mollura il tocco su Centorrino, altra traccia centrale presa da Centorrino che calcia dal limite, strozzo un po' la conclusione, il 10 di Giorgianni. Finisce qui quindi il primo tempo. De Marco conquista palla, resta lunga, il tocco su Mollura che entra in aria, Mollura col sinistro, 1-0. Meno di un minuto sul cronometro di questa ripresa. Subito Mollura, secondo gol consecutivo, aveva segnato già sabato in casa del Gescal. Ora apre il match dello Zigari dopo un primo tempo equilibrato. Si spezza subito lo 0-0 in questa ripresa. Il piazzato Pantano non trova l'impatto col pallone, Cucinotta tira un suo sfiro di sollievo e blocca. Quindi primi cambi per Giorgianni, fuori Pipitone e Semutu dentro Maiolino e Scrima. Adesso è il turno anche di Mazzeo e Garufi, escono De Marco e Minissale. Quinta sostituzione, fuori Trischitta, dentro Mandini siamo al quarto d'ora di questa ripresa. Lancio in profondità proprio per Scrima uno dei ragazzi entrati in campo in questa prima parte di ripresa. Prende il fondo, Scrima mette una palla potente in mezzo. Pino blocca, c'è la Centorrino in agguato sul secondo palo. Mazzeo in profondità per Resta Lunga, uno scatto di Resta Lunga e la mette dentro. Scrima di testa, buona chance non sfruttata dalla città di Taormina. Resta Lunga, tanto campo davanti, Resta Lunga punta l'uomo, vince un rimpallo, cade nel contatto condonato e calcio di rigore. Protagonista di questa ripresa Resta Lunga, aveva firmato l'assist numero 11 in occasione del gol. Va a Centorrino, non sbaglia! 2-0 proprio al trentacinquesimo di questa ripresa. Partita chiusa dalla città di Taormina, una bella ripresa da parte dei ragazzi di Giovanni Giorgianni, che portano a casa tre punti. Finisce qui la partita sul controllo di Maiolino. Il triplice fisco dell'arbitro sancisce quindi la seconda vittoria consecutiva. I giovanissimi del città di Taormina che salgono così a quota 37 in classifica.